Presidente Memmo, insomma per quello che abbiamo visto, tre squadre che hanno meritato l'approdo prossimo in eccellenza nel massimo campionato regionale? Sì, tre belle squadre, io penso che il cambio, il verdetto già qualche settimana fa ce l'aveva dato, quindi oggi hanno confermato che sono tre belle squadre, quindi benvenute in eccellenza. Soprattutto una cornice di pubblico importante, ho saputo da qualche ora che questa sarà anche la location per la finale playoff tra il Giulianova e la vincente dello scontro tra l'Aquila e Torrese, diciamo che Città Sant'Angelo si presta non solo come struttura ma anche come manto erboso, ci stiamo camminando e devo dire che il lavoro fatto è davvero un lavoro ottimale. Sì, è di elogio all'amministrazione comunale, alla stessa società che lo hanno gestito, questo inviando al meglio ma lo vediamo oggi, difatti era un test per poter capire se questa struttura, questo campo potesse poi ospitare la finale dei playoff e penso che oggi abbiamo avuto la certezza e la conferma che sicuramente sarà la sede idonea e adatta per ospitare questo grande evento della prossima settimana. Presidente, l'ultima stagione che ancora non si conclude perché ovviamente ci sono i playoff, ci sono i playoff però possiamo già dare un bilancio sulla stagione calcistica, prima il consigliere Mauro Bassi mi ha detto rispetto a quello che è stato l'anno scorso abbiamo fatto tanti passi in avanti e in più mi ha accennato anche di questa chicca, speriamo che Abete risponda presente, risponda di sì, di un torneo, di una vetrina da svolgersi tra alcune regioni per sostituire tra virgolette il torneo delle regioni. Sì, allora intanto c'è in questo senso anche una novità, già abbiamo avuto certezza perché è stato approvato dal consiglio di presidenza, quindi in Abruzzo faremo all'Aquila nel weekend del 18-19 giugno un quadrangolare di rappresentative femminili, quindi nel contesto dell'Aquila dello sport città europea. E siamo in attesa anche, abbiamo fatto questa proposta, siccome il campionato di Juniors è l'unico campionato che non disputa le fasi nazionali e le finali nazionali, ci siamo proposti come Abruzzo di poter ospitare le squadre che vincono nelle rispettive regioni il titolo regionale. Aspettiamo questa risposta, ma al di là di questo, come dicevi, l'attività è stata intensa, abbiamo superato dei momenti difficilissimi perché purtroppo il Covid ci ha sicuramente, in determinati momenti, ha reso la vita difficile e penso che siamo riusciti oggi ad arrivare alla fine, per noi è vero che ci sono ancora da fare adesso le fasi finali di playoff e di playout, speriamo che possiamo iniziare il prima possibile playout perché purtroppo la determina, insomma, nei prossimi giorni verrà dalla Serie D, quindi la speranza è che le nostre squadre abruzzesi possano già negli scontri diretti salvarsi e quindi per noi, insomma, abbiare immediatamente quei sono i playout. Ci saranno anche altre iniziative importanti, ospiterà la finale di Supercoppa Italiana di Beach Soccer il 2 giugno Pescara e in più ci sarà anche una tappa nazionale di questo evento che sarà organizzato dal Comitato Regional di Abruzzo. Quindi, come dicevo, insomma, ci sarà anche la finale dei campionati giovanili che faremo sicuramente all'Aquila con il fine mese, quindi, insomma, l'attività è ancora molto intensa, quindi ancora questo mese di lavoro, ma cercheremo, come abbiamo fatto oggi, di perseverare, di continuare a lavorare per le nostre società. Davvero l'ultima, darsi un voto è sempre complicato, è più semplice dare il voto agli altri. Come si sono comportate le società abruzzesi, Presidente, a 360 gradi, a prescindere poi da quelli che sono stati i risultati sportivi raggiunti? È stato un anno da questo punto di vista transitorio. Sinergia c'è stata? Sinergia abbastanza, ma non tanto sulle categorie apicali c'è poco da dire, perché oramai già c'è una certa professionalità. Il meccanismo, insomma, è oliato. Il meccanismo è oliato. Abbiamo avuto qualche difficoltà con le società minori, abbiamo lavorato benissimo, e penso in sinergia anche con l'AIA. Era difficile soprattutto perché, come sapete, due anni di fermo, non solo i nostri ragazzi, i nostri giocatori, ma anche gli stessi arbitri hanno attraversato questo periodo difficile. Però penso che ne siamo usciti bene e mi fa piacere soprattutto che molte società, anche nei confronti dell'AIA, hanno speso, soprattutto nelle categorie maggiori, delle parole di elogio. Perché? Perché quando sono venuti gli arbitri da fuori, molto probabilmente sono state le difficoltà maggiori che abbiamo rincontrato. Oggi c'è stato il raduno dell'AIA, io sono stato presente oggi in mattinata, ho detto queste parole ai ragazzi, di elogio. Adesso è il momento dei verdetti anche per loro, quindi tutti giocheranno questo momento difficile in queste gare di play-off e play-out. Quindi ho detto che la cosa importante è quella di lavorare insieme in sinergia, perché solo lavorando insieme si può andare avanti e salvaguardare quello che è il mondo del nostro calcio dilettantistico. Con il vicepresidente della Sante, Carlo Fabrizzi, se la tiene stretta questa coppa, anche perché l'avete sudata o sbaglio? Molto stretta, anche perché penso che è stata una giornata bellissima di sport. Risultati, penso, tranquillo, è stato positivo per noi, non siamo felici, ci dispiace per gli altri, perché comunque abbiamo incontrato due squadre sicuramente di merito. Che daranno battaglia soprattutto la prossima stagione in un campionato che si fa vincente, perché mi aspettavo, non dico remi in barca da parte delle vostre squadre a fine stagione, però poi quando sono arrivati i minuti finali, insomma, ve la siete giocate la grande. Guarda, io penso che tutte le squadre, tutti i dirigenti, giocatori, accompagnatori, tutti quelli che vanno dietro al calcio, a prescindere dalla parte economica, che poi è relativa alla fine, perché poi ci si va con il cuore, ci si va veramente con tutta l'energia che uno ha e quindi è per vincere. Quest'anno è un anno fortunato, almeno fino adesso, sicuramente siamo contenti, abbiamo vinto il campionato, abbiamo riportato la Santa Egidiese, il paese, credo, nella categoria che meriti. Qualcuno ha coniato tempo fa il termine triplete, è un qualcosa che ha legge nella vostra testa oppure vi accontentate? Perché dopo il campionato so che avete fatto tardi la sera tornando da Morrodoro, tornerete tardi a casa anche stasera dopo questa Coppa e se avete l'intenzione di far tardi nella finale di Coppa Italia? Torneremo tardi sicuramente, molto tardi perché andiamo a scindere dal risultato. Dal risultato perché effettivamente poi il risultato è quello che ti dà più carica, più energia per andare avanti. Purtroppo, contento per me, io sono un inderista e mi ricordo la famosa frase di Murillo. Allora non le dico di quale squadra sono io? Non lo so. No, faremo scopa perché sono romanista. Questo non è un problema, siamo tutti bravi e tutti il diritto di avere il nostro cuore. C'è la volontà di chiudere il cerchio perché poi alla fine ho detto anche in telecronaca diretta, quando si vede un trofeo, quando si vede una Coppa a pochi centimetri, è vero sì, si è stanchi mentalmente, fisicamente, ma c'è sempre l'intenzione di andarla a prendere, a stringerla come sta facendo lei? Non li posso nascondere che punta rimostri i preti.